ecco qua amici il mio gelato vegano la gelateria si chiama Van Leeuwen ed è famosa per questo gelato vegano in cui immagino non ci sia il latte questa coppetta mi è costata 6 dollari e 25 che è comunque una cifra piuttosto alta e adesso tra poco troverò il gelato per poi devo trovare una postazione per mangiarlo sono qui nel cuore della Sixth Avenue e non è facilissimo trovare una postazione ma per coloro che sono vegani e mi chiedono dove trovare cose vegani insomma do già una prima un primo luogo eccolo qua amici proviamo è arrivato il momento di provarlo questo è il gelato la consistenza è molto dura perché questo gelato non è quello soffice che escono dalle macchinine non si nota la differenza devo dire devo dire che è buono dai cioè non noto proprio la differenza non vorrei che si fosse sbagliato identico poi una cosa che tratto mi piace di questo gelato è che non è molto molto dolciastro e quindi non disgusta forse è solo un po' duretto forse è che si deve squagliare un po' buono ragazzi mi piace devo dire che questo gelato vegano è una bella scoperta ve lo consiglierei di aprire una bella gelateria le gelaterie fatte bene piacciono sempre eccolo qua lo potete vedere da vicino va bene amici vi saluto il gelato vegano oggi è approvato ricordatevi la marca non so come si pronuncia ci vediamo a New York vi aspetto vi amo ciao